Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi sfide Road Trip! Distruggere i segnali di stop con la skin catalizzatore! Come vedete siamo a Parco Pacifico e ce ne sono veramente tantissimi! Ne stiamo distruggendo uno dopo l'altro! Siamo già arrivati al numero 4! Vediamo se riusciamo a trovarne altri! Potrebbero essere già tutti e 10 qua ragazzi! Voi seguite il mio personaggio per vedere dove sono tutti! Siamo arrivati al numero 5! Purtroppo lagga un pochettino perché i server sono super pieni ma noi non demordiamo e cerchiamo di non essere killati per fare tutti i segnali! Comunque ragazzi non c'è problema anche se ci killano perché basta andare a Parco Pacifico li troverete 5! Dovessero killarvi rientrate! L'importante è utilizzare la skin catalizzatore! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video! Noi siamo in live! Ciao!